Circolazione molto sostenuta sull'autostrada A4 soprattutto in direzione Venezia. La ripartenza dei mezzi pesanti alle 16 sommata al controesodo dei vacanzieri ha creato all'ingresso della barriera di Trieste-Lisert una coda di 6 chilometri fino a Sistiana. Inoltre per tutta la giornata il tratto tra Villesse e il nodo di Palmanova in direzione Venezia è stato interessato da continui stop and go di auto. Gli incollonamenti in questo caso si creano ma si riassorbono pochi istanti più tardi senza creare blocchi. Il traffico era atteso in linea con le previsioni da bollino nero ed è stato gestito senza particolari criticità dalla task force di Autovie Venete. La circolazione è tornata invece alla normalità tra la Tisana e il Bivio A4 a 23 in direzione Trieste dove le code a tratti formatesi poco dopo pranzo per effetto della ripartenza dei turisti dalle località balneari si sono completamente riassorbite. Domani domenica 18 agosto sarà una giornata caratterizzata dal bollino rosso. Sulla A4 in direzione Trieste è previsto al mattino traffico intenso con possibili rallentamenti in prossimità delle località balneari. In direzione Venezia al mattino e al pomeriggio è probabile la formazione di code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità delle località di mare. Anche sulla A23 in direzione Palmanova e sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste si prevede un notevole afflusso di transiti soprattutto al mattino.